Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube, un nuovo giorno dei mercati finanziari. Andiamo velocemente ai mercati che tornano in qualche modo in verde dopo la grande paura della prima settimana di gennaio. Dopo l'audizione di Powell c'è stato quel bellissimo rimbalzo che abbiamo già commentato, abbiamo già visto nell'altro video. Adesso i mercati si stanno assestando, dopo che hanno assorbito la notizia scontata dei tre aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed previsti per il 2021, tuttavia le cose non sono ancora finite, nel senso che non sono ancora chiare, ma soprattutto c'è l'inflazione che sta aumentando. Come abbiamo visto dai dati di ieri sull'indice dei prezzi al consumo, è uscito proprio sul dato americano, l'inflazione continua a salire in maniera meno forte di quanto lo stava già facendo nei mesi scorsi, ma comunque non si sta arrestando. Quindi tenere sotto controllo l'inflazione per la banca centrale sarà sicuramente, almeno per la Fed, e non solo per la Fed ma anche per la BCE, saranno comunque i passi più importanti. Quindi sulla base di questi movimenti delle banche centrali vedremo anche poi i comportamenti dei mercati. Mercati che hanno già visto una piccola correzione, adesso stiamo arrivando alla stagione degli earnings già da oggi. Oggi tocca a Delta Airlines, che dovrebbe cominciare, se non ricordo male, a pubblicare il proprio revenue a brevissimo, prima dell'apertura del mercato, e domattina tocca a tutte le grandi banche d'affari americane. Abbiamo già fatto un video su questo e abbiamo già visto un po' come stanno andando le varie banche. Passiamo subito ai grafici, perché qui siamo sul grano, del grano ne parliamo tra un pochino, perché il grano sta prendendo una strada un po' particolare. Andiamo invece sul Nasdaq, che in questo momento è leggerissimamente positivo, impercettibile. Qui siamo sul time frame a 4 ore, perché sono andato un attimino a guardarmi un po' cosa è successo dall'ultimo spike high all'ultima discesa, quindi allo spike low qui, con Fibonacci per andare a vedere un po' dove questo rimbalzo si era fermato. Sono andato sul time frame a 4 ore per avere un pochino più di dettaglio rispetto al time frame giornaliero. Sul time frame giornaliero, come vedete, non c'era tantissimo da vedere. Diciamo che siamo in questa zona un po' pericolosa, siamo sotto il livello 61,8, ma siamo a ridosso del livello 0,51,2. Tra l'altro, qui si era fermato il Nasdaq, che è proprio a ridosso della media a 21 periodi, della media esponenziale. Vedete che questa media, come vi faccio vedere spesso, torna sempre utile, diciamo, nello studio dell'analisi tecnica. E ieri, dopo aver toccato un massimo e tornate indietro, stamattina aveva aperto anche un negativo, questa notte era abbastanza negativo, adesso, diciamo, si sta un pochino assestando. Andandocelo a vedere sul time frame a 4 ore, possiamo vedere un'altra cosa interessante, che, per esempio, sta utilizzando la media a 50 periodi come resistenza, e questo davvero ci dà un'indicazione in più di come potrebbe essere la giornata di oggi, quindi giornata abbastanza comunque ancora incerta, e soprattutto ci sta dicendo che, dopo aver toccato proprio ieri, diciamo, questi nuovi massimi di periodo, brevi massimi di periodo, ha un pochino ritracciato. Ha ritracciato, ma si è andata ad appoggiare su questo livello qua. Vedete che questo POC, questo Price of Control, proprio qui, sul livello di 15.830, è esattamente dove si era prima, diciamo, dove si era concentrato l'ultimo slancio verso il basso, e poi era ripartito, e adesso vedete che sta utilizzando questo livello come supporto. Quindi abbiamo diverse indicazioni. Ora il prezzo, vedete che è in qualche modo incernegato dentro questa struttura, no? Cioè abbiamo qui la media a 50 periodi, qui la media a 21 periodi, e il prezzo, vedete che ci si muove dentro in maniera un po', diciamo, contrastata. Quindi sicuramente vedremo come si muoverà il prezzo oggi, probabilmente qui avremo ancora un supporto, un rimbalzino, e quindi magari riusciremo anche a bucare la media a 50 periodi e portarsi un pochino più in alto, magari andare a sfidare anche il livello 61.8, quindi sui 16.99. Staremo a vedere. Molto ovviamente qualche indicazione arriveranno anche dai primi earnings che usciranno a breve. L'SP500 si sta comportando più o meno allo stesso moto, più 0,05%. I mercati europei sono leggermente positivi, Futsimib più 0,32, DAX più 0,06, UK più 0,1, negativo alla Francia. Oggi è abbastanza male, diciamo, i mercati asiatici, sono andati giù un po' tutti, in maniera anche abbastanza pesante. C'è da dire che sui mercati asiatici pesano le solite preoccupazioni sul mattone cinese, quindi ci sono ancora tante preoccupazioni, perché, per esempio, oggi sono arrivati alcune notizie, secondo cui alcuni creditori, soprattutto le grandi banche cinesi, hanno cominciato a chiudere i rubinetti verso diversi progetti di sviluppo immobiliare, e questo mette un po' in crisi, perché, insomma, i primi contraccolpi li hanno avuti, innanzitutto aver grande, vabbè, il ribasso del 3,5%, perché c'è stata un'assemblea dei possessori di bond e quant'altro. E poi c'è Shimao Group, che è una delle più grandi, diciamo, entità, in qualche modo, una società, un operatore immobiliare, uno tra i più grandi operatori immobiliari cinesi, anche chi oggi ha pagato, diciamo, questa decisione delle banche, con un ribasso del meno 7%, quindi c'è ancora tanta tensione sul mercato cinese, sul mercato dei mattoni, sul mercato immobiliare, che ha fatto già tanto male agli Stati Uniti, in tempi non troppo lontani, se vi ricordate bene. E quindi, staremo un po' a vedere come si muoveranno i mercati oggi. Di certo, diciamo che, difficilmente vedremo mercati eccezionalmente frizzanti, da questo punto di vista, quindi staremo davvero a vedere un pochino i da farsi. Nel frattempo, stavo controllando, vediamo un pochino se riesco a vedere il calendario dei utili, per capire se c'era qualche notizia in particolare. Ah, sì, allora, c'è una notizia interessante, per quanto riguarda Taiwan Semiconductor, che, se vi ricordate, Taiwan Semiconductor è una delle più grandi aziende di produzione di semiconduttori, microprocessori, o comunque di materie basilari per i microprocessori, e uno dei più grandi fornitori delle grandi aziende, anche americane, e ha rilasciato i suoi earnings, earnings davvero interessanti per Taiwan Semiconductor, che più 1,16, estremamente positivi, 1,16 sull'EPS, 15.84 miliardi di dollari, per quanto riguarda i ricavi, scusate, ho la gola un po' secca, e segna un premercato molto interessante, più 4%, quindi per Taiwan Semiconductor si prospetta una seduta di borsa estremamente interessante, e questa magari la vediamo anche poi più tardi. Andiamo a vedere adesso il mercato del Forex, perché stiamo tenendo d'occhio, questo bellissimo grafico, che è quello dell'euro-dollaro, che ieri è andato a farsi in una bellissima galoppata, è andato a rompere finalmente questa struttura che stavamo monitorando ormai da diversi giorni, è partito con un rialzo molto molto interessante, e adesso cosa ci possiamo aspettare per l'euro-dollaro? In questo momento, diciamo, per come stanno messe le cose, io mi aspetterei che l'euro continui a rafforzarsi, soprattutto vada poi a sfidare questi primi livelli, queste prime strutture, qui ne abbiamo una a 1,15,90, e poi abbiamo l'altra a 1,17,30, proprio in prossimità, diciamo, di questa struttura qui, in prossimità della media 200 periodi, ma la sfida più grande ce l'abbiamo qua a 1,18, ovviamente. Quindi, come vi ho detto, dal mio punto di vista, per il 2022 vedremo un rafforzamento dell'euro, la rottura di questa struttura finalmente ci sta permettendo di portare, diciamo, in buon vantaggio l'investimento su cui l'abbiamo già entrati, almeno con i copiatori di etoro, da qualche giorno, da qualche, forse anche con una settimana di anticipo. Oggi il dollaro segna ancora un ribasso, guardate che discesa che ha fatto ieri, e guardate qui che resistenza adesso che troviamo sul dollaro, segna un bellissimo ribasso, bellissimo, insomma, dipende poi per chi, meno 0,13%, e vedete che torna in qualche modo a rilassare il pezzo. Ma guardate questo movimento del dollaro, che è molto interessante, qui siamo ancora sul giornaliero. Allora, andiamo a cercare di tracciarci questa riga qua, vedete, abbiamo questa trend line, così, molto, molto bella, molto diretta, su cui il dollaro, vedete che ha continuato a sbattere diverse volte, ha fatto sempre massimi, più alti, rispetto a minimi più alti, e quindi ha incanalato una certa, diciamo, una certa tendenza rialzista. Adesso qui cosa abbiamo? Abbiamo quest'altra, proviamo a vedere se riusciamo a dargli un senso, abbiamo quest'altra linea, che potrebbe aver preso, diciamo, un po' questa direzione così, e quindi cosa potremmo aspettarci in questo momento, sul breve periodo? Potremmo aspettarci magari un rimbalzo, ci potrebbe stare benissimo, potrebbe proseguire questo canale, vedete, che tende ad allargarsi, un po', no? Potrebbe esserci un nuovo rimbalzo, oppure no, perché guardate qua, questo minimo qua, per il momento, per carità, è ancora lontano dal minimo precedente, però vedete che è su questa struttura qua, e tra l'altro, se andiamo a vederci un pochino anche le quantità di volumi, i primi supporti, diciamo, per il dollaro li potremmo trovare più sotto, quindi potrebbe esserci ancora un modo di scendere, però bisogna tenere molto monitorata la cosa, c'è questo canale qui, che potrebbe essere davvero interessante da continuare a seguire, perché qui potremmo assistere oggi a un supporto, e quindi a un rimbalzo per domani, magari del dollaro stesso, ma, ripeto, ma bisogna fare attenzione, perché comunque abbiamo queste strutture qua, e questa struttura qua, su cui, diciamo, il dollaro potrebbe trovare l'unico, il vero supporto del momento, del breve periodo, quindi occhio anche qui a come operare, perché non sarà facile, però, ripeto, noi sul lungo periodo, più o meno un'idea ce l'abbiamo. Andiamo a guardarci i rendimenti dei bond a 10 anni, rendimenti che si testano intorno all'1,75, come potete vedere, nulla di particolarmente sconvolgente, almeno sta accadendo, sul rendimento dei bond, si sono assestati, si sono un po' appiattiti, volendo, ma siamo ancora su questi livelli qua, vedete, siamo qui su questo doppio massimo, e, ripeto, la preoccupazione degli investitori, è che si torni qua sopra, vicino al 2%, e questo è quello che potrebbe mandare davvero a pallino, i mercati americani. Andiamo a guardarci, quello che sta succedendo, invece, sul mondo dell'azionario, perché ieri, con pur un po' di fatica, il Nasdaq ha chiuso in positivo, andiamo a vedere un po' le aziende che hanno chiuso a loro volta, AMD, allora, anzitutto togliamoci il, ma no, lasciamolo, anzi, il volume, AMD che viene da un momento abbastanza, diciamo, ribassista, no? Qui, se andiamo a vederci questo movimento, e lo andiamo a misurare, guardate, facciamo questo esercizio, allora, ce lo andiamo a misurare dal punto A al punto B, e vediamo un pochino se ha fatto un movimento simile qua, vedete, ha fatto un movimento abbastanza simile, quindi ha fatto A, B, C, D, adesso sta recuperando, e potrebbe, però, dar vita ancora a un altro movimento ribassista, quindi dovremo fare molta attenzione su AMD ancora che sta soffrendo, anche se qui sta recuperando, in questo momento, vedete, c'è proprio questa concentrazione di prezzi, diciamo, questo price of control, proprio qui in questa corrispondenza, intorno ai 137, quindi, occhio, perché non è detto che questo sia un buon supporto, potrebbe cedere di nuovo, così come ha ceduto già due volte, e poi si trova sotto le medie veloci, quindi da tenere molto in considerazione, Nvidia ieri ha fatto più 0,65%, la situazione è la stessa di AMD, vedete, si muove in maniera abbastanza speculare, quindi non cambia, diciamo, la tipologia di analisi, se non che il POC addirittura è più sopra, quindi qui abbiamo una resistenza maggiore, a 2,98, intorno a 300, poi abbiamo Apple, che anche ieri si è mosso abbastanza piatta, però rimane molto, molto, ancora molto, molto alta, e poi abbiamo Microsoft, che si è ripresa da un paio di sedute, è tornata a salire in maniera interessante, pur rimanendo comunque ancora sotto le medie veloci, ma sotto questo, diciamo, price of control, di 335 dollari, 330, che segnano ancora le esistenze, un'eventuale salita, però vedete che Microsoft, poi cominceranno, come tutte le fang, la prossima settimana, ci saranno gli earnings, quindi sarà una settimana molto interessante, Intel Consolida, intorno ai 55, movimenti molto, molto interessanti quelli di Intel, volevo vedere Snowflake, che non abbiamo seguito, ormai negli ultimi giorni, non ne abbiamo seguita molto, ma che vedete che è andata, guardate cosa sta facendo Snowflake, andiamo a toglierci adesso qua i volumi, è andata a rimbalzare sulla media 200 periodi, scende, 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 ha trovato un supporto, proprio qui sulla media 200 periodi, quindi, volendo, potremmo prendere questo manico, questo cap enendolo, che sia, e andarlo ad approfondire, andarlo ad allungare, vediamo un po' se come distanza ci potremmo stare, sì, ci potrebbe anche stare, 300 potrebbe aver trovato, diciamo, il suo supporto più forte, quindi, anche qui, terremo d'occhio Snowflake, per capire se avrà ancora modo di, mostrare un po' di muscoli, per recuperare, diciamo, quota, volevo guardare Netflix, eccolo qua, perché Netflix ha fatto dei movimenti importantissimi, ha fatto dei movimenti incredibili, è andato a scendere tantissimo Netflix, guardate che discesa che ha fatto, forse tra tutte le aziende, diciamo, del settore tech, è quella che in questa discesa del Nasdaq, del 5% del Nasdaq, è quella che ha sofferto di più, guardate, ha fatto un meno 25% Netflix, ha fatto davvero una discesona, e è tornata dentro questo canale di forte indecisione, quindi, occhio davvero a Netflix, perché torna sotto livelli estremamente pericolosi, insomma, pericolosi, non rialzisti, perché è tornata anche sotto la media 200 periodi, siamo vicini al supporto dei 500 dollari, siamo a 5,37, quindi, davvero anche Netflix è da tenere sotto controllo, perché ha rotto, tra l'altro, con questo rimbalzo, ha rotto anche la, guardate qua, è andata a rompere anche il livello 61,8, i Fibonacci, andando addirittura molto più in basso, e quindi, Netflix sicuramente era salita davvero tanto, forse era salita anche troppo, oltre, diciamo, quello che ci si poteva attendere, e qui, occhio che, anche qui abbiamo, ovviamente, gli earnings previsti per il 20 gennaio, settimana prossima, e quindi, anche qui ci sarà da divertirsi, e da ballare, andiamo a vederci Tesla, perché l'abbiamo seguita per un pochino, e parliamo anche di Tesla, perché è giusto parlarne, allora, vediamo un po', Tesla recupera, recupera la grande, vedete, che va sopra i 1.100 dollari, dopo aver spaventato, dopo aver essere scesa, qui eravamo entrati short, se vi ricordate, come vi avevo detto, eravamo entrati short, proprio, poco sotto, i 1.190, e avevamo chiuso il nostro short, intorno ai 1.000 dollari, vi avevo detto a 1.000, occhio, ci sarà qualcosa, succederà qualcosa, vi ricordate, ve l'avevo detto negli altri video, mentre stavamo shortando Tesla, avevo detto, occhio, perché a 1.000, qualcuno interverrà, cercherà di tenere sul prezzo, perché se non lo farà, avremo un tracollo, fino a 800, perché vedete che qua c'era davvero, un poco, 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 spazio, diciamo, per coprire gli ordini, perché i volumi erano veramente scarsi, sono veramente scarsi, anche qui è salita, a saltoni, vedete, ho fatto proprio balzoni, quindi, era salita tanto, in maniera anche un po' sconclusionata, e quindi, staremo a vedere, poi, devo dire che ho letto l'altro giorno, di un'analisi, di Goldman Sachs, quindi, che torna, gli analisti di Goldman Sachs, si lanciano su Tesla, e la inseriscono, nella loro pick list, del 2022, prezzo obiettivo, 1.200 dollari, quindi, caro Elon, tanti auguri, ovviamente, la mia è una provocazione, e quindi, va bene, detto questo, adesso Tesla sta recuperando, diciamo, però, vabbè, poi, anche qua, al momento, con questi livelli di prezzo, io non me la sento, di entrare su Tesla, mi sarebbe piaciuto, rientrare su Tesla, ma mi sarebbe piaciuto, vederla un pochino più in basso, su questi livelli di prezzo, veramente, faccio fatica, a voler entrare, ripeto, non per il fair value, che è sicuramente più basso, di quanto sia più basso, poi ognuno può dire quello che vuole, perché non la possiamo paragonare solo a un'azienda automobilistica, perché fa batterie, fa altre cose, ha altri progetti, per cui, insomma, non è solo un'azienda automobilistica, perché se la confrontiamo con quello, dovrebbe valere un terzo di quello che vale, però c'è tanta altra roba, per cui, anche lì è difficile davvero dargli un fair value, di certo, non è 1100 dollari, magari è un pochino più in basso, 700, 800, in senso, ci potrebbe stare, se scendesse, diciamo, un'ipotesi, un pensierino, ce lo farei, sicuramente, allora, detto questo, parliamo di materie prime, perché ieri, grandi movimenti, grandi movimenti sul gas, andiamo sul time frame, a un giornaliero, perché ieri il gas, ha fatto qualcosa di incredibile, è andato a fare un più 12%, si è beccato in un candelone enorme, tutto in una sola giornata, e guardate qua, che cosa ha fatto, ha violato prima la media a 200 periodi, e poi ha addirittura chiuso sopra la media a 50 periodi, e adesso vedete che sta un pochino scendendo, meno 1,39, però si sta appoggiando sulla media a 50 periodi, sul gas davvero, ripeto, bisogna fare molta molta attenzione, io ieri, ho fatto tre operazioni, due sono andate male, una è andata bene, ma, tra l'altro, purtroppo, ci sta, quando sale così, diventa pericoloso, bisogna fare davvero attenzione, per carità, non ci ho rimesso niente di particolare, tutto sommato, è andata bene, sono riuscito a coprire, però, devo dire che, bisogna fare davvero attenzione, quando prende questi movimenti, così violenti, il gas, è assolutamente imprevedibile, perché il gas si è mosso in questo modo, perché è arrivata l'ondata di freddo artico, sugli Stati Uniti, nel nord degli Stati Uniti, ieri c'erano filmati di New York, innevata, in preda, a una bufera, e questo freddo artico, sembra si stia abbassando, quindi, molto probabilmente, ci sarà una maggiore richiesta di consumo di gas, e molto probabilmente, quindi, il prezzo tenderà un pochino a risentirne, c'è da dire, che da un punto di vista puramente tecnico, ripeto, abbiamo sempre questo livello di prezzo qua, di attenzione, da tenere in considerazione, perché davvero potremmo pensare che il gas possa continuare a salire fino a questi livelli, se il freddo dovrebbe, dovesse persistere in maniera particolarmente violenta, perché poi molto dipenderà anche dalle scorte, ovviamente, qui parliamo del gas americano, ovviamente, non del gas europeo, che è questo che vediamo qua, che si sta assestando oggi intorno ai 73 dollari per megawattora, e vedete che siamo ancora molto alti, ma ormai ha creato questa struttura qua, su cui si sta appoggiando, e difficilmente la vedremo scendere, per il momento, sotto quei livelli. Parte il gas, andiamo a vedere un pochino quello che sta facendo il petrolio, petrolio che oggi si ferma un po', dopo il grande rally, 82,70, siamo tornati quasi sui massimi degli 84 di periodo, toccati a novembre, grande rally per il petrolio, che non sembra davvero trovare ostacoli ulteriori alla sua salita, e questo è un po' un problema per chi, insomma, per tutti, per l'industria, per le aziende, per i consumatori, sono prezzi davvero molto molto alti, anche troppo, dal mio punto di vista. Parliamo del grano, il grano che fa movimenti abbastanza bruttini, per chi come me lo vedeva al rialzo, molto probabilmente nel 2022, vedremo un prezzo del grano salire, per il momento, diciamo che siamo in un momento un po' pericoloso, perché innanzitutto aveva superato questo livello, e aveva rotto, diciamo, questa soglia di attenzione, che erano i 7,60, e l'altro giorno ci aveva chiuso sopra. Ieri è andato a scendere un po', e è andato a testare di nuovo questo livello, e ci è andato sotto, e oggi siamo a 7,53, e qui la cosa comincia a essere un po' preoccupante, per chi ha puntato sui rialzi del grano. C'è da dire che se andiamo a vedere un po', a disegnare un canale su questi ultimi movimenti, c'è da dire che certo non c'è da stare molto allegri, perché vedete che abbiamo questi minimi, che si sono creati, più bassi, che stanno formando veramente un trend abbastanza negativo, e da qui adesso davvero abbiamo un altro supporto da testare, che è 7,40 in caso di ulteriori riscesi, e quindi bisognerà fare davvero molta attenzione. Sul grano sono usciti, e andiamo a vederli velocemente, tra l'altro i report, i report, eccolo qua, scusate, il report di gennaio, uscito proprio ieri, quindi motivo per cui ieri abbiamo visto il grano, rilassare il proprio prezzo, perché è uscito il report mondiale di produzione e immagazzinamento del grano, che è uscito il 12 gennaio, precedentemente c'era quello di dicembre, e prima ancora c'era quello di novembre, e cosa possiamo vedere rispetto alle previsioni di dicembre? Le previsioni nuove sono un pochino migliorative, per quanto riguarda il grano, rispetto a quelle che erano le previsioni di dicembre, che comunque erano già abbastanza meno pessimistiche di quelle che erano state a novembre, e infatti guardando un attimino il grafico, possiamo vedere che proprio dopo i massimi toccati a novembre, però c'era stata una violenta discesa, proprio dopo che, qui vedete, eccolo qua, qui c'era stata, ha cominciato a scendere il prezzo, perché probabilmente le previsioni pessimistiche che c'erano state nei prezzi precedenti, hanno cominciato ad essere un pochino più confortanti, no, c'è da dire che comunque non cambia molto in sostanza, allora, il prezzo del grano, e ve lo faccio vedere un pochino, ve lo faccio vedere qua, soprattutto ve lo faccio vedere anche qui, allora, il prezzo del grano, vedete, è aumentato, comunque, per quanto riguarda, adesso guardiamo un attimino la US Season, è di 15 centesimi a 7 dollari e 0,5 per bushel, mentre nel report di ieri è arrivato a 7,15 per bushel, vedete che comunque, diciamo, il prezzo è aumentato di nuovo, quindi comunque il prezzo del grano in qualche modo sta aumentando, c'è da dire tuttavia che il forecast di immagazzinamento e consumo si sta rivedendo in maniera un pochino più ottimistica, vedete che questo è quello di dicembre, che vedeva i consumi, che vedeva insomma anche la parte di esportazione, una riduzione di consumo interno, una parte di esportazione più pronunciata, vedete che la parte di esportazione sta adesso un pochino rilassandosi, quindi ci sarà più consumo interno, molto probabilmente, ma questo non andrà a intaccare di troppo le scorte e quindi probabilmente farà sì che il prezzo del grano si possa rilassare un po', anche se, anche se, questo, guardate, questa era una delle previsioni, anzi questo era il grafico con il forecast, questo era quello di novembre, questo vi faccio vedere quello di dicembre, questo quello di gennaio, vedete come si stia abbassando, diciamo un po' il tutto, e qui c'è il prezzo riportato, e comunque vedete qui anche i grafici cambiano, stanno rilassando anche qui, i grafici si stanno rilassando, vi faccio vedere anche qua rispetto a quelli precedenti, e vedete, ecco qua, guardate, e quindi il motivo per cui adesso vediamo che il grano non può rilassarsi, ripeto, comunque siamo sempre su livelli estremamente critici, sia come scorte che come produzione, perché siamo sui livelli più bassi degli ultimi tre anni, quindi, comunque, il prezzo del grano non scenderà tantissimo, rimarrà comunque abbastanza elevato ancora, forse non raggiungeremo i 1000 dollari, come li abbiamo visti rispetto a qualche settimana fa, però di certo dovremo fare molta molta attenzione, perché ci sarà ancora tanta tanta indecisione, vedremo poi come evolverà anche qui la stagione, perché come evolveranno le varie stagioni, quest'anno, c'è da dire che la parte del leone, la sta facendo l'Australia, che molto probabilmente è quella che ha riuscito a produrre un po' di più, rispetto alla media mondiale, e anche quella che sta esportando forse anche un po' di più, detto questo, vi stavo facendo vedere, stavo continuando a parlare del grano, ma vi stavo facendo vedere il grafico invece dei report, quindi, vabbè, non sono riuscito a farvi vedere il report, scusate, quello che volevo farvi vedere erano questi dati qua, erano proprio i report, invece vi stavo continuando a far vedere di nuovo il grafico, vi volevo far vedere quello di cui stavo parlando, era proprio questi grafici qua, che ci fanno vedere le esportazioni, questo è l'ultimo di gennaio, questo è quello di dicembre, e questo è quello di novembre, vedete come i grafici si stanno rilassando, e questo significa comunque minore esportazione, minore richiesta, più consumo interno, e quindi comunque sia del tutto, diciamo fa sì che il prezzo del grano possa contenersi un pochino, anche se è aumentato di qualcosina, meno di quanto ci si aspettasse, ma ripeto la situazione, produzione scorte è comunque ancora la più bassa rispetto negli ultimi 3-5 anni, quindi anche di questo dovremmo tenerne conto. Detto questo, passato questo discorso sul grano, per cui attenzione al grano, andiamo ovviamente a parlare delle ultime cose, perché poi andiamo lunghi e diventa noioso, oro, andiamo a parlare dell'oro, oro che torna a salire ieri in maniera interessante, è andato di nuovo a toccare i 1.830, poi è tornato indietro, adesso si sta anche, anche oggi si sta un pochino rilassando l'oro, vedete che siamo su questo, siamo entrati dentro questo canale, ve l'ho disegnato proprio ieri, siamo entrati dentro questo canale, su cui per il momento l'oro diciamo sta cercando di tenersi a galla, ma siamo ancora, non siamo in un vero e proprio trend rialzista, siamo ancora un pochino sotto questa trend line, che è quella che fa un po' da sparti traffiche, tra un vero e proprio, diciamo una vera e propria esplosione del prezzo, quindi staremo a vedere, abbiamo davvero oggi un altro livello, ancora questo livello qua da testare, e quindi vedremo un po' come reagirà oggi l'oro, in una giornata che dovrebbe essere abbastanza piatta, bitcoin reagisce bene, bitcoin che si riporta a 44k, adesso si va rilassando un pochino, meno 0,50, dopo la grande paura, il grande spavento, che aveva visto scendere con questo spike, intorno ai 39, 40, adesso si è un pochino rilassato, ha recuperato un po' di posizioni, ha recuperato molto bene Binance, meno bene le altre cripto, ma quello che ci interessa è che si riporti sopra i 42k, ora deve consolidare queste quote qua, deve consolidare queste quote qua, e deve tornare a sfidare i 48k, i 47, finché non torna sopra questi livelli qua, sarà davvero difficile poter ipotizzare un nuovo trend rialzista di brevissimo termine, perché ripeto, siamo ancora a forte rischio discese, bene, non c'è molto altro da dire, spero che questo video vi sia stato utile, come sempre, ci vediamo per i prossimi aggiornamenti, se ci sono dubbi o domande, scrivete sempre, cerco di rispondervi, e devo preparare un nuovo video, ovviamente su Agbismart, perché me lo state chiedendo, lo farò sicuramente tra oggi e domani, perché siamo agli sgoccioli, siamo davvero a pochi giorni, dal famoso famigerato o pseudo-disting, non si sa ancora, e staremo a vedere come evolverà, come sempre, iscrivetevi al canale, e ci vediamo sugli altri social che trovate qui nelle descrizioni, o su eToro per chi mi vuole copiare, stay tuned, finger crossed, ciao a tutti!